La Saleritana rifinirà in Emilia Romagna la preparazione in vista della gara di sabato col Sassuolo. Stefano Colantuno ha voluto portare il gruppo in ritiro con un giorno d'anticipo per favorire concentrazione e connessione tra tutti i singoli. Dall'infermeria arrivano notizie contrastanti. Tra i convocati si rivede Sepe ma si fermano a Gioedalmonte per problemi muscolari. Il portiere oggi si è allenato regolarmente e dovrebbe avviarsi verso la titolarità tra i pali per la gara con la squadra di Grosso. Nuovi problemi fisici per Dalmonte che dopo il lungo stop estivo dovrà ora star fermo per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Gio, invece, che aveva già accusato problemi nella giornata di martedì, dovrà star fermo per alcune settimane a causa di una lesione al retto femorale sinistro. Dalmonte, come Braff e Calloni, un po' tagliato fuori dai giochi con il nuovo modulo mentre in giù potrebbe essere molto importante. L'esterno francese però non ci sarà nel centrocampo a 5 immaginato da Colantonio che già nella partitella di ieri alla Rechi con la primavera di Fusco ha provato il recuperato Iarosischi a sinistra e Ruggeri nella difesa a 3 con Ferrari al centro e Bron a destra. La squalifica di Stojanovic lancia Ghiglione sulla corsia destra mentre al centrocampo a Matucci sarà il play tra Teglio e Storiano con Rustic rientrato in gruppo dopo la parentesi nazionale e il reno dell'Aid partiranno dalla panchina. Il francese è uno degli osservati speciali visto che due mesi fa proprio la Reggio Emilia è esordi in granata dopo un primo infortunio muscolare. Fermo per guai fisici, non certo i primi della sua stagione e in generale il suo triennio in granata anche maggiore che spera di rientrare a dicembre, mese in cui si augura di tornare in campo Tonghia dopo i primi esami effettuati che avevano escluso fratture e lesioni a carico di tibia e caviglia, l'attaccante continuava ad accusare dolore, la solitana si è rivolta ad uno specialista, il colpo di bastoni è stato duro, resta da capire se il dolore sia l'unica conseguenza per l'ex Juve ma certo siamo ormai ad un mese quasi dall'episodio traumatico e Tonghia in cora e boxe come la società granata aveva infine scritto nel comitato ufficiale di ieri avrà bisogno di un ulteriore periodo di lavoro personalizzato per il rinforzo dell'articolazione. Fino a ieri la granata filtrava l'ottimismo per rivederlo in campo già con la Calarese ma la sensazione è che ci potrebbe volere un po' più di tempo, Colantuno parte tra l'emergenza perché ferma anche Torregrossa mentre Valencia è fuori dai giochi non per motivi techici ma per una decisione della società che da settimane lavora per la risoluzione del rapporto con il cileno.